L'Aper Capo Cavallo si presenta per la terza stagione di fila ai nastri di partenza della Serie A di Bocce. Il piccolo paese di appena 700 abitanti nel comune di Corciano sarà l'unico fra Umbra e Toscana a prendere parte al massimo campionato italiano nella specialità Raffa. E la società del presidente Piero Pisello ha dimostrato negli ultimi anni di poter competere alla grande con realtà come Roma e Milano. Non è che ho messo obiettivi ai ragazzi, è una squadra ringiovanita con due ragazzi molto giovani, quindi le pretese di poter fare un campionato tranquillo, toglierci qualche soddisfazione con qualche big della categoria. Quando 7-8 anni fa lasciai il calcio, lasciai il calcio come presidente e arrivai qui al mio paese dove la squadra giochicchiava in Serie C e via discorrendo, oggi mi ritrovo quattro anni alle spalle di Serie A, unica società, hai detto tu, tra la Toscana e l'Umbria, in Serie 1, una squadra di A, una squadra di B, una squadra di C, devo dire più non posso dare al mio paese via. Nessuna pressione particolare? Allora stavi scherzando quando qualche minuto fa hai detto al tecnico Mattaglioli se perdi la prima sei subito e sonerai. No, lui lo sa benissimo che per me non esiste sonero, anzi c'è da ammirare queste persone che nel dopolavoro, come vedi qui, vengono a allenarsi senza nulla pretese, anche se è uno professionisti, ma non siamo a livelli. Per loro è una soddisfazione. Io credo, anche perché hanno valutato quando mi capiterà mai di poter allenare una squadra in A1, quindi lo fanno veramente, li sento vicini. Devo dire che lo fanno per la società, ma posso dire una cosa, lo fanno anche per me. Io ho notato questo e io non posso che far altro stare lì vicino e donargli un po' la mia euforia, la mia goliardia, così. Forse sono i risultati migliori che si possono ottenere. A forza di farla da spettatore però ormai sei diventato un tecnico anche tu, lo schema del violino ce lo spieghi? No, quello è uno schema privato che ho insegnato a Marco, quindi ora lui cercherà, perché bisogna suonarle a tutti dentro il campo. Quindi a Marco gli ho spiegato come funziona, ecco. È top secret, quindi niente. Due innesti, Luca Valecchi e Matteo Franci, ad abbassare l'età media degli otto, che sabato 16 gennaio affronteranno la prima trasferta nelle Marche in casa del Fontespina. Insieme al capitano Luca Brutti ci saranno infatti riconfermati Fausto Dormentoni, Giancarlo Gori, Davide Mattioli, Rodolfo Rosi e Michele Ricci. Speriamo che le fantasie e i sogni del nostro presidente si realizzino, perché è la cosa comune di tutti, ragazzi. Nonostante tutte le traversie Covid, compreso la situazione Covid, gli altri anni ci ritrovavamo molto più spesso, vivevamo anche i fini di settimana insieme, venerdì, sabato e domenica, cose che quest'anno non abbiamo potuto fare. Ci ritrovavamo anche dopo l'allenamento classico, ci ritrovavamo a mangiare un piatto di pasta insieme, a ridere, a scherzare, a fare gruppo. Però il gruppo quest'anno, siamo quasi gli stessi l'anno scorso con l'inserimento di questi ragazzi qui, credo che questi ragazzi ci danno quella euforia, quella spensieratezza che noi ne abbiamo bisogno, dai, ne abbiamo bisogno. Senza le cene nel post allenamento, nel post gara, Piero Pisello come fa? Eh, ma no, come facciamo tutti, noi siamo abituati a fine allenamento col Presidente, andiamo a cena, eccetera. Sicuramente sì, viene a mancare anche quella cogliardia, quel divertimento, eccetera, che però purtroppo i tempi sono quelli che sono. Come d'altra parte è brutto giocare a porte chiuse, poi specialmente come siamo abituati noi qui all'Aveco, il nostro pubblico è particolarmente caloroso e ci dà una grande mano a giocare a porte chiuse, è veramente difficoltoso. La grande favorita, Luca? La grande favorita, secondo me, come tutti gli anni, sono Milano e Roma, Boville e Caccialanza, che sono quelle che sono strutturate meglio, secondo me, hanno un organico molto completo e saranno sicuramente loro le due favorite. E allora via che inizi la nuova stagione sperando di suonarle a tutti.